Questo ha cambiato tutto, perché le risorse, il paper, l'olio, l'acqua... Conoscere l'inglese oggi è fondamentale. Saperlo parlare significa avere in mano una delle chiavi d'ingresso del mondo del lavoro, sempre più martellato da internet. Per favorirne la diffusione tra i giovani del Golfo di Policastro, la British School di Sapri ha avviato presso il locale polo liceale un corso d'inglese con insegnante madrelingua sul tema social networks nel mondo. Realmente loro hanno la conoscenza, la praticità di usare internet, però anche la conoscenza della lingua inglese. Il mondo in cui loro vanno a lavorare, a vivere in futuro, utilizzerà tutti e due di queste cose. Quindi loro devono diventare esperti in mettere in pratica sia una conoscenza che l'altra. Il progetto della British School di Sapri è stato sposato con interesse dal dirigente scolastico ed apprezzato dagli studenti. Tutti gli altri progetti che realizziamo pensiamo molto all'inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro all'interno dell'Unione Europea. In questo caso la collaborazione con una sede scolastica a Sapri ha permesso ai ragazzi un contatto immediato con un senior teacher e stanno realizzando delle lezioni in lingua inglese che permettono di migliorare la comunicazione in lingua straniera. È una cosa positiva vedere che comunque siamo stimolati alla conversazione in inglese. Credo che questo sia molto importante, poter ascoltare l'inglese, non solo studiarlo sui libri, che molto spesso magari non è facile comprenderlo così, ma proprio dialogare con una persona madrelingua. It was an excuse about industrial revolution for ending with social networks like Facebook, Twitter, YouTube.